L'operazione nasce in collaborazione, grazie a una donazione della Fondazione Banca del Mondo, che ringraziamo l'Europatia, in collaborazione con Brera. È stato sviluppato un laboratorio artistico da parte dell'artista Wan-Kawa Letizia e l'attività ha consistito nel realizzare da parte, con il coinvolgimento dei pazienti, dei piccoli pazienti, che hanno realizzato questi personaggi di carta, di fantasia, sono stati elaborati dai bambini, dopodiché questi personaggi vengono proiettati con delle luci sulla parete e la loro proiezione poi viene disegnata e si crea un murales. E poi viene dipinta creando un murales. È la tecnica del teatro delle ombre, antichissima, e tutto ciò ha una finalità sia a livello pedagogico che a livello terapeutico, perché la terapeutica artistica si occupa delle persone e insegnare alle persone a prendersi cura di sé con l'arte. Quindi questo strumento permette ai piccoli pazienti di affrontare le paure, anche l'isolamento, il timore dell'essere in un luogo non familiare e un pochino freddo, diciamo, a vivere al meglio questa esperienza, anche il processo di guarigione, attraverso appunto l'esperienza delle ombre. Le ombre sono viste come qualcosa di divertente, di giocato e quindi la fiaba permette di elaborare anche traumi, paure, preoccupazioni e insomma stare anche meglio a livello psicologico. Grazie. Grazie.